Svelato il programma istituzionale artistico della perdonanza numero 728, è impreziosita ovviamente e puntata sulla visita di Papa Francesco il 28 agosto. All'auditorium del Parco il sindaco per Luigi Biondi, il vice Raffaele Daniele, direttore artistico Leonardo Di Amici, s'hanno illustrato il programma. Un programma istituzionale che inizierà il 19 agosto alle 11 con l'inaugurazione della gradonata davanti alla Porta Santa. Il 21 agosto sarà riscoperta la Madonna con Bambino di Saturnino Gatti restaurata a Colle Maggio. Il 22 agosto alle 18 passaggio di consegne della Dama della Bolla, Dama della Croce, Giovin Signore. Il 23 il corteo storico, il 24 una novità, il premio del perdono. Il 25 a San Silvestro la presentazione della Croce del Perdono e del Pastorale della Perdonanza. Il 26 agosto sarà presentato un volume da donare ai cardinali che accompagneranno il Papa. Il 28 ovviamente la giornata clou, quella di Papa Francesco. Il 29 chiusura della Porta Santa e il rientro del corteo storico. Molto ricco anche il programma artistico illustrato dal maestro Leonardo De Amicis. La novità, perdonanza a Village. Uno spazio interamente pensato per i giovani con artisti emergenti importanti. Il 23 a Colle Maggio ci sarà il canto per la rinascita di Futuro e Pace con artisti del calibro di Liodato, Vecchioni, Gaia, Ledia, Tony Adle, Anne Foglietta, Daniele Pecci e altri. Il 24 spazio in Piazza Doma, la seconda edizione del Gran Gala della Danza. Il 25 l'Aquila suona, una sorta di isola suonante con gruppi locali nel centro storico. Il 26 in Piazza Duomo, Fabi Fibra. Gran chiusura con Claudio Baioni a Colle Maggio il 30 agosto, ma sarà uno spettacolo particolare, pensato proprio per l'Aquila. Punto di forza come sempre l'orchestra del maestro Leonardo De Amicis, con la presenza del Conservatorio Casella. Assolutamente l'utilizzo del territorio, degli artisti del territorio, e lì dove è possibile portare degli artisti a rendersi conto di cos'è questo territorio. L'Aquila non è più una cenerentola, io la vedo come una principessa rifiorita. C'è stato un periodo in cui all'Aquila ci si veniva per solidarietà, per aiuto, ed è giusto, ma poi questa cosa deve cambiare, deve andare avanti. L'Aquila è una piattaforma culturale straordinaria. Ci sono tante novità in questa edizione della perdonanza, compreso il premio del perdono, che sarà assegnato per la prima volta. E c'è anche la novità infrastrutturale dinanzi alla Porta Santa, con la gradonata. Anche il sito è stato aggiornato. Sulle polemiche fatte da Italia Nostra sulla gradonata dinanzi alla Porta Santa, il sindaco ha rispedito tutto al mittente. Sarà l'anno della perdonanza del Papa, sarà però anche l'anno della quarantesima edizione della perdonanza moderna, quella riscoperta per volontà politica di Don Tullio De Rubis e portata avanti da Enrico Centofanti e dal professor Alessandro Clementi. Sarà la perdonanza in cui finalmente si porrà assistere all'apertura della Porta Santa in maniera ordinata attraverso l'utilizzo dell'anfiteatro che è in corso di ultimazione proprio di fronte alla Porta Santa. Sarà la perdonanza dei giovani e sarà anche la perdonanza classica dei grandi eventi.